Capelli sciupati, secchi, troppe tinte, perché non provate l'ennè naturale? Ve ne voglio parlare nella mia rubrica provato per voi. Innanzitutto vi faccio vedere come l'ha preparato per me Roberta Pucca, esperta in più cosmesi. Roberta Pucca ci fa vedere la sua ricetta personale di enne. Ok, allora, velocemente mettiamo una base di lausonia, che è l'ennè rosso. Io uso una tonalità fredda perché a me piacciono riflessi violacei, grazie. Sempre guanti? Sempre guanti perché sennò rischiamo di tingerci le mani. Io poi ci applico la robbia, che è sempre un'erba tintoria, sempre sui toni del rosso freddo, e l'ibisco, che è il caccia d'è, sostanzialmente. Quindi faccio così, faccio, diciamo, due parti di enne, una parte di robbia e poi un po' di ibisco. Poi io aggiungo però sempre il mio matonim. Che quindi è una sorta di... Sì, sì, che va bene contro, sì, anche contro le cadute, porfora, prurito, ma a me piace proprio... Che non cambia il tonico. No, 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 assolutamente. Che è sempre altro. E poi aggiungiamo acqua calda. 70 gradi, certo. Sui 70 gradi. Allora, se uno ha la cute molto grassa, può aggiungere alla pastella, cioè in questo momento, un po' di aceto, che può essere aceto di vino, aceto di mele, quello che preferisce. Se una persona ritiene di avere il cappello molto, molto spento, un pochino di limone, volendo. Quindi sono eventualmente addizionali che si possono, appunto, inserire nella pastella. Ma inserire oli, perché l'olio funge da, diciamo, rende il cappello come se fosse impermeabile, quindi l'enne non colora. Ecco, quindi non fa presa. Non fa presa, sì. Quindi, insomma, bisogna poi mescolare in modo da soglia tutti i grumi e i nostri enne. E' una consistenza di questo genere. Io lo lascio 20 minuti, mezz'ora di posa, poi nel caso aggiungo un altro pochino d'acqua e poi lo applico su tutta la testa, dalla rice fino alle ponte. Copro con una pellicola da cucina e tengo in posa dalle 2 alle 3, 4 ore. E così abbiamo ottenuto la nostra tinta naturale senza ingredienti chimici per capelli che è anche nutriente. Grazie Roberta. Grazie a te. I capelli sono luminosi, soffici e direi che l'enne naturale è un'ottima soluzione per chi ama la vita green. Continuate a seguire il mio canale YouTube e iscrivetevi alla mia newsletter.